Io ero vicino a Uampe fino a quando era possibile e poi quando non ero più indispensabile ho salvato un po' le gambe per domani dato che ho questa possibilità di poterlo fare, che sono fuori classifica, me la sono presa un po' più in contatto. Io vedo molto bene l'Hindley, oggi non so di preciso come... Sono arrivati quasi insieme sostanzialmente. Ma sicuramente stanno un po'... A parte che c'è tanta stanchezza e sicuramente domani ci saranno i distacchi e la battaglia che deciderà il giro.